Secondo caso del 2023 ad Arezzo di virus dengue contratto all'estero da un residente in provincia di Arezzo e una nuova ordinanza del sindaco Alessandro Ghinelli con la quale viene disposta la disinfestazione della zona circostante l'ospedale Sandonato di Arezzo dove la persona è ricoverata. L'intervento sarà effettuato nella notte tra il 13 e il 14 aprile in caso di pioggia nella notte successiva. Come di consueto il dispositivo prevede che nelle aree pubbliche caditoie stradali e pozzetti aree private aree verdi di pertinenza delle abitazioni nell'arco di 200 metri dalla struttura sanitaria gli operatori procedano alla disinfestazione con insetticidi tramite interventi mirati. Secondo l'ordinanza si ricorda a tutti che ci sia l'effettiva disponibilità delle aree aperte o delle abitazioni per permettere l'accesso degli addetti alla disinfestazione per effettuare i trattamenti in maniera corretta.